Ci vogliamo guardare un video che arriva da Foggia, da quel genio, da quel campione Cambio! Ho fatto bene! Surreal Channel Si sono di carta tortea Niente Offerte a tempo con sconti del 25,50% Novità Novi arrivi tutti da scoprire Le etichette di supermercati palla C'è un senso Oh! Ha riattaccato Io lo ando È un genio Ti ho detto un genio, un campione È un genio Ma se ne so quanti telefoni avevo Guarda, quasi quasi mi innervosisce per quanto è geniale No, lo so è bravo Il nostro Angelo Campanozzi Cortesemente, socio Vorresti regalarci ancora qualche messaggio? Cos'è la dignità che noi abbiamo perso? Tu l'hai perso, io no Io faccio il bravo presentatore Allora, comunicazione sociale Sì Questo messaggio è rivolto al signor Max Al signor Boccacini Al signor Carlo E al signor Matetti Io questo già dalle prime parole Già intuisco che è raffreddato E non sente l'odore delle mazzate Che dice? Sono Diverse puntate che percepisco Un certo astio nei miei confronti Addirittura Vi ho fatto qualche cosa Vi ho mai cercato soldi? Ma chi è? E allora perché avverto una certa riluttanza nei miei confronti? In fondo vi sto solamente chiedendo Senza molta insistenza Di ricordarmi di fare gli auguri Il giorno del 13-18 Da dietro la presa Ce l'hai il numero di telefono? Io so anche l'indirizzo di questo uomo qua Io ti vengo a prendere da casa Con i cani lupo Che non le faccio mangiare Calma, c'è gente a casa Non far vedere Però voglio dire Se c'è qualcuno Non lo puoi segnalare Non puoi fare niente Devo bloccare un altro Che manda i puntini 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 puntini